Bene, la registrazione è partita, quindi benvenuti a tutti. Altra funzione delle tre fondamentali basiche dei dialoghi è la funzione informativa, cioè di fatto i dialoghi si possono utilizzare per far sapere al lettore delle cose importanti, cioè per fornire informazioni al lettore. Ora, questa è sicuramente una funzione molto importante, ma deve essere usata in maniera intelligente. Ultimamente mi è capitato di leggere un fantasy in cui c'erano frasi del tipo «Quindi, Sire, avete deciso di partire per la foresta oscura? Sì, partirò domani mattina». Allora ricordatevi, Sire, che come ben sapete l'ingresso della foresta oscura è semplice, ma immediatamente vi troverete contro gli alberi assassini di Modoc che vi accoglieranno con le loro pigne avvelenate. Non erano esattamente le pigne avvelenate, però l'idea era questa. Cosa non funziona in questo dialogo? Funziona che il consigliere del re sta dicendo al re delle cose che il re sa benissimo, infatti dice ricordatevi che ci sono gli alberi, le pigne, ricordatevi vuol dire che lui lo sa, a meno che questo re non sia totalmente l'incoglionito e non era così nel libro. Quindi, in questo caso, è ovvio che queste informazioni sono dirette al lettore. E certo, però è un dialogo che nella vita reale non potrebbe mai avvenire, perché è come se io salissi in macchina con uno qualunque di voi, appena salgo vi dico «Ah, ricordatevi che col rosso ci si ferma», a voi mi guardate e dici «Ma sei cretino? Cosa mi dici sta cosa?» Non ha senso che tu mi dici questa cosa perché è nota. Bisogna fare molta attenzione che il dialogo non serva per ribadire l'ovvio. Ovvio, ovvio, che questo ovvio lo è per i personaggi, non per il lettore. Ma a maggior ragione, i personaggi non parlerebbero di cose per loro assolutamente scontate. Così come noi non parleremmo della necessità di fermarsi a un semaforo rosso, perché per noi è totalmente scontato. Quindi, quando diamo informazioni riguardo alla nostra ambientazione, riguardo al nostro mondo, riguardo a quello che sta accadendo nella nostra storia, quando diamo queste informazioni tramite il dialogo, e dobbiamo fare molta attenzione che questo dialogo sia credibile, cioè che effettivamente ci sia una ragione per cui il personaggio A dice quelle cose al personaggio B. Quindi questo è molto molto importante. Altrimenti, la funzione informativa del dialogo rimane, cioè effettivamente il lettore riceve delle informazioni, ma in maniera totalmente inadeguata, e questo contribuisce a far sì che i personaggi perdano di credibilità, e questo fa sì che alla fine di tutto, come risultato finale, il lettore, io lettore per esempio, non possa immedesimarmi con quei personaggi, personaggi, perché non sono davvero personaggi, sono soltanto degli strumenti con cui, tramite cui, lo scrittore mi dice cose. Ma allora è sempre lo scrittore che sta parlando, non ho dei veri personaggi, ho semplicemente dei pagliacci, dei burattini, che vengono mossi in una maniera o nell'altra dallo scrittore, e questo non funziona, non funziona perché la facoltà, come dire, non la facoltà, la possibilità, scusate, del lettore di immedesimarsi nei personaggi è quello che fa sì che poi, o nella storia, ma alla fine sono sempre i personaggi che portano avanti la storia, la possibilità del lettore di immedesimarsi nei personaggi e quella che lo tiene attaccato al libro. A volte lo può tenere attaccato al libro un mistero, per esempio, nel genere giallo. Però anche nel genere giallo noi magari non ci ricordiamo, prima ho citato Agatha Christie, magari non ci ricordiamo tanti casi di Agatha Christie, però se qualcuno dice Poirot, allora abbiamo immediatamente un'immagine, stessa cosa per Sherlock Holmes, stessa cosa andando in Italia, è molto più recente, per Montalbano, per esempio, cioè il personaggio evoca tutta una serie di situazioni anche al di là del singolo caso da risolvere. Quindi il personaggio è assolutamente fondamentale, io devo fare di tutto per renderlo sempre credibile, e il dialogo è molto importante in questo senso.